Presentato a Silvi il centro sportivo multidisciplinare rivolto a giovani di età compresa tra i 5 e i 14 anni che nel periodo estivo avranno la possibilità di sperimentare diverse attività motorie e ludico-ricreative con metodologie e strategie di formazione innovative. Silvestro Di Berardino ha illustrato il programma delle attività che coinvolgeranno i ragazzi nella struttura di Città Sant'Angelo. Sì, noi sono vari anni che siamo un centro coni edu-camp per le attività estive è un centro coni di eccellenza, io lo definisco essendo il presidente di questa associazione perché noi non facciamo soltanto attività multidisciplinare, multisport che è una cosa ovviamente riconosciuta e doverosa per quanto riguarda gli edu-camp coni ma noi aggiungiamo anche tutta una serie di attività che sono anche fondamentali quali la musica, quali le attività ludico-manipolative che servono a fare la crescita di ogni singolo bambino. All'iniziativa è intervenuto il presidente del CONI Abruzzo Enzo Imbastaro che si è soffermato sul valore dello sport per la crescita psicofisica dei giovani. È una forma di attività estiva che vuole incentivare la pluridisciplinarietà delle attività cioè cercare di inculcare nei ragazzi varie attività e far conoscere varie attività per poter poi, ripeto, scegliere nel migliore dei modi l'attività dove si può emergere nel migliore dei modi. Al vaglio dell'amministrazione comunale di Silvi, come già avvenuto per quella di Pineto la possibilità di sostenere le spese per la partecipazione ai campus estivi da parte dei figli delle famiglie svantaggiate. Dunque, l'amministrazione è attenta al discorso sport e giovani per cui c'è questa intenzione di ripartire proprio dai giovani quindi di centrare questo discorso sulla fascia d'età giovanile e quindi sarà sicuramente d'appoggio a manifestazioni come quella che ci sono oggi concedendo appunto la possibilità di usufruire degli spazi e delle strutture che possiamo mettere a disposizione. Quindi è quello appunto di incentivare questo tipo di discorso e di collaborare in questo senso da parte del Comune.